Ciao a tutti e benvenuti. Questa è la lettura per il segno dell'acquario. È una lettura senza tempo, quindi quando vedrete questo video probabilmente sarà il momento giusto per voi per ricevere il messaggio che contiene. Se sentite il bisogno di ricevere un altro messaggio o di avere un messaggio che integra questo che ricevete, invito ad andare a vedere la lettura del vostro ascendente oppure di un segno predominante nel vostro tema natale. Io mi chiamo Lisa, mi occupo di crescita personale e crescita spirituale. Per questo motivo queste letture non sono a scopo divinatorio, non vado a parlare del futuro, ma servono per dare una chiave, uno spunto per andare a risolvere un problema che magari avete in questo momento della vostra vita, un blocco o qualcosa di questo tipo. Se piace la lettura invito a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanellina. In questo modo sarete aggiornati tutte le volte che esce un contenuto nuovo. Tra l'altro suggerisco di guardare questo video fino alla fine perché sto dando un regalo a tutti quelli che lo desiderano e a fine video vi spiego di che si tratta e come riceverlo. Partiamo con la vostra lettura. Quindi vado a estrarre tre carte. Uno indica l'energia che in qualche modo vi caratterizza in questo momento ed è appena uscito. L'altro, la sfida, eccolo qui, che potreste trovarvi a dover affrontare in questo momento della vostra vita, è un suggerimento da parte del mazzo. Poi userò un altro mazzo alla fine per estrarre un suggerimento da parte dell'universo. Le vostre carte sono gli amanti, l'asso di bastoni e il tre di denari. L'energia che in qualche modo vi caratterizza in questo momento, gli amanti. È un'energia di scelta, è un'energia di, per qualcuno potrebbe essere anche di voler uscire dalle triangolazioni, dalle situazioni poco chiare, scegliere quello che fa più bene a se stessi piuttosto che quello che fa piacere agli altri oppure comunque situazioni che sono non tanto chiare. Questa è una bella energia, è un'energia di chiarezza interiore, quindi è un'energia che vi permette di creare dentro di voi una consapevolezza, una chiarezza che poi si trasforma o si traduce nella vita quotidiana nello scegliere, lo scegliere quello che è giusto per voi, quello che sentite profondamente essere la strada corretta. Il creare pulizia interiore crea pulizia intorno, quindi con questa energia degli amanti che in questo momento appunto sembra che caratterizzi qualcuno di voi, magari tanti di voi, c'è questo potenziale di lavoro. Cominciare a fermarsi un attimino, ok, quali situazioni nella mia vita sono poche chiare, quali situazioni rispecchiano la poca chiarezza che c'è dentro di me, perché tutto parte sempre da noi, è facile dire sono gli altri, è l'altro che fa questo, è l'altro che fa quello. Noi siamo, o meglio, le situazioni sono uno specchio di quello che c'è dentro di noi, quindi dobbiamo imparare, è molto potente questo, imparare a smettere di guardare alla situazione esterna, o meglio focalizzarsi solo su quello, è importante sapere qual è, ma dire ok, questa è la situazione esterna, cosa sta dicendo di me, qual è la mia caratteristica che ha creato questa situazione, perché ho attirato questa situazione, quali parti di me sono uno specchio di questa situazione, io come mi comporto nei miei stessi confronti, sono trasparente nei miei stessi confronti, sono capace di scegliere me stessa o me stesso nelle situazioni, quindi è una bellissima energia con cui lavorare. La sfida è l'asso di bastoni, quindi la sfida è fare scelte seguendo una parte diciamo istintuale piuttosto che mentale, creare situazioni nuove, perché l'asso è un inizio, è un potenziale creativo, creare le nuove situazioni che desiderate nella vostra vita sentendo una parte più profonda, una parte più istintiva, più passionale e non tanto mentale, voi rientrate ancora nei segni d'aria, quindi la tendenza è di stare molto nella mente, nel cognitivo, ed è una sfida quindi togliersi per un attimo dal cognitivo e sentire profondamente quale è il nostro potere creativo attraverso la passione. Vedete questi fiori che per me rappresentano proprio la crescita, la creazione e quindi questa carta vi parla proprio di questo, di trasformarvi anche in un certo senso, perché i bastoni in questo mazzo sono rappresentati da un serpente, quindi la sfida è anche cambiare pelle, cambiare gli schemi antichi, gli schemi vecchi, prepararvi a dei nuovi passi, prepararvi a lasciare delle impronte diverse dove andrete a camminare da adesso in avanti, ed è questo è molto bello ma è una sfida, quindi qualcuno di voi fa difficoltà a fare questo. Qual è il suggerimento da parte del mazzo? Anche per lavorare su quello che è appena stato detto ed è interessante perché abbiamo il 3 e io prima negli amanti parlavo di triangolazioni, ma questo è un 3 sano, il 3 di denari, circondatevi di persone con cui c'è una visione comune, con cui siete pronti ad andare nella stessa direzione sostenendovi a vicenda, in maniera molto pratica perché è il 3 di denari, quindi a differenza dal 3 di coppe dove c'è tanto un sostegno emotivo, qui si tratta proprio della praticità, voglio intorno a me persone che siano solide, persone che abbiano una stessa visione della vita, dei stessi valori e grazie ai quali con un lavoro di squadra ho il potere di andare nella direzione che è giusta per me creando situazioni che portano solidità, che portano sicurezza, che portano anche abbondanza, quindi attenzione a che vi circonda e con questa energia degli amanti avete il potenziale di scegliere bene perché ripeto questo è un'energia di scelta, fate quel lavoro che vi dicevo all'inizio su di voi di pulizia interiore e attirerete in automatico questo, sceglierete con cognizione di causa questo, cercando di restare nella vostra capacità di sentire la dimensione più istintiva e più passionale, sentirvi piuttosto che ascoltarvi a livello mentale quando state anche scegliendo, selezionando, lasciando andare, tutto quello che sarà il processo da fare. Adesso vediamo l'universo che cosa vi mette davanti come suggerimento anche rispetto a tutto quello che è stato detto fino ad ora, infatti il due di spade, quando scegliete nel due di spade è bellissimo perché soprattutto in questo mazzo ci sono tanti riferimenti che parlano di quello che vi sto per andare a dire. Nel due di spade ci sono le spade, quindi la dimensione mentale, però notate che questa donna è isolata dal tutto, quando dovete prendere una decisione, quando si pone davanti a voi questa energia degli amanti, fatelo dandovi spazio, dandovi tempo di ascolto, come vi ho detto prima e soprattutto oltre che ascoltare la parte mentale, che sono le spade, ascoltate la parte intuitiva, qui c'è la luna, e la parte emotiva con tutta quest'acqua, ascoltatevi a 360 gradi, istinto, intuito, emozioni, mente. Quando voi integrate tutte queste parti, siete in grado di ascoltare tutte queste parti creando un equilibrio tra di loro, le scelte che andate a fare sono potenti, sono scelte più giuste, sono scelte più ponderate e non solo a livello cognitivo. Quindi spero che questo messaggio vi dia proprio uno spunto su come lavorare su tutte quelle situazioni che in questo momento della vostra vita non sono chiare. Partite da voi, questa è la base e una delle cose che io faccio con le persone che si rivolgono a me, lavoriamo molto su quello che vi ho appena detto e sono dei lavori meravigliosi, si hanno dei risultati pazzeschi. Per quanto riguarda invece il regalo che vi accennavo, di cui vi accennavo all'inizio del video, è un periodo di stanchezza generale, collettivo, ma anche del periodo dell'anno, il periodo che io definisco del letargo. Quindi se voi vi sentite un po' scarichi, se sentite l'energia un po' bassa. Se sentite di aver bisogno di aumentare l'energia, anche quella creativa, quella mentale, a tutti i livelli, io ho creato una meditazione guidata che aiuta ad allineare i centri energetici e aumentare la propria energia. Per ricevere questa meditazione basta scrivere nei commenti sotto quel video meditazione, vi manderò un veloce messaggio per spiegarvi come fare per riceverlo. È un audio, dura una ventina di minuti circa e più lo si fa, più si avranno i risultati in termini appunto di più carica energetica. Allo stesso tempo aiuta molto il rilassamento, quindi per qualcuno aiuterà contro lo stress, aiuterà contro l'ansia e anche questo direi che già di per sé ci aiuta ad aumentare i nostri livelli di benessere e di energia. Noi ci vediamo presto con un'altra lettura e vi auguro una buona giornata. A presto!